Ciao a tutti ragazzi, sono Megadestimi2002 ed oggi siamo su EpicWay. Facciamo i livelli online che creano tutte le altre persone. Facciamo gli svortrò che questo gioco consiste nel far uccidere le persone con la spada. Abbiamo questi due bambini. Attenzione, c'è la vittoria. No! Mi vado ad infilzare la spada sulla testa e si ricomincia. Si deve uccidere il nonnetto per vingere. Attenzione, sì. No, sì. E vingo. Facciamo un altro svortrò. Facciamo questo com'è. Attenzione. Si vedono appena i piedi. Mi suicido, ma vinco! Facciamo invece un vortrò. Questo gioco consiste nel lanciare le palle nelle varie sezioni. Come potete vedere qui c'è morte più due palle. Oppure qui. L'ho preso al primo colpo. Facciamo qualche altro. Vediamo qui è più difficile. Ho preso morte. Ah, devo prendere Unlock. Per sbloccare la vittoria. No. No! Dovevo prendere la corda! Facciamo un altro livello. Boltrò Neon. Oh, bellissimo questo boltrò. Sono le palle. No! Ho preso una morte. E mi arriva un'ascia. Ritroviamoci. Niente, è sempre da help. Andiamo. Win! Sì, abbiamo win. Dopo 19 secondi. Facciamone un altro. Attenzione. Facciamo qualche altro livello. Vediamo se ci sono livelli della... Dopo aprivi. Super flex. Insomma. Sì, ce ne è molti. Vediamo come... Facciamo qualche altro livello. Sempre di questi qua. Attenzione. Questo... Facciamo questo. Vediamo com'è. Attenzione. Sul tavolo. Facciamolo un'ottima volta. Bellissimo questo livello. E li stacco pure la testa. Esce sangue e volontà. Andiamo. Nonno. Resta attenzione. Guardate. Vediamo se riesco a prenderlo e a buttarlo. Nel tavolo. Niente da fare. Mi troviamo. Attenzione ragazzi. Stavolta ti esce. E si infizza pure un pezzo di vetro. Dritto nel cervello. Castello. Stavolta ti esce. facciamolo un altro con la bicicletta attenzione gli alpioni facciamo impossibile senza altri nomi attenzione ma è un salto lunghissimo ci arrivo no si no ho finito alla fine anche se ero morto facciamo impossibile che sta succedendo mi hanno chiuso qua dentro si è aperto facciamo un altro impossibile vediamo questo attenzione vai veloce cadono chiodi qua dobbiamo saltare oh no dobbiamo colpire il bottone rosso prima che le palle ci fanno sfafondare attenzione è difficilissimo non lo colpisce attenzione vai che ci sei quasi niente da fare attenzione prendo una ringorsa tutte le palline niente da fare ricominciamo riproviamoci attenzione qui cadono i chiodi no me ne entra uno nella schiena e il mio personaggio così muore riproviamo l'ultima volta i chiodi la prima volta ce l'ho fatta e tutte le altre no andiamo si dobbiamo saltare l'ho colpito attenzione ho colpito e quando salto si ci stacca la testa e poi si mette in una posizione seduto come se non fosse successo niente andiamo facciamo vediamo se ci sono ecco vediamo questo che cos'è attenzione mi devo mangiare soprattutto ti do una scala e attenzione tutti cadono facciamo un altro livello facciamo questo sopra un tavolo attenzione guardate no stavolta si è lanciato dall'altra parte attenzione dai cadi eeeh non si è fatto niente e si mette seduto guardate che posizione brutta che posizione brutta facciamo un altro livello sempre di questi con il nonnetto no devo prendere niente da fare oh mio dio no cerchiamo di prenderlo no silenzio l'incontrate attenzione e ho vinto dovevo colpire alla fine l'altro non dovevo prendere quello messo lì vediamo ladder powerbomb babbo natale un altro babbo natale non si lascia babbo natale attenzione non vuole cadere guardate come è rimasto facciamo un ultimo attenzione ma dove mi sono lanciato all'infinito forse è dall'altra parte credo di si attenzione no è proprio così il livello bene ragazzi per oggi è tutto se mettete un mi piace se vi piace ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti grazie a tutti i nostri giorni a tutti i nostri giorni abbiamo Grazie.